Ciao, sono Desiree, ho 28 anni, abito e lavoro a San Vito e Tagliamento. A 16 anni ero una ragazza che frequentava il liceo Leopardi Majorana a Pordenone con indirizzo socio-psico-pedagogico. Avevo delle idee su chi volevo diventare e grazie a delle esperienze di volontariato proprio qui nel nostro territorio sono riuscita a intraprendere la strada universitaria e poi professionale che mi ha portato a diventare ciò che sono oggi. Ad oggi sono una terapista occupazionale e lavoro con bambini e famiglie che desiderano migliorare le loro occupazioni sia in termini di autonomia e anche di soddisfazione. Lavoro come libera professionista in uno studio privato qui a San Vito e anche a domicilio. Come potete vedere ho una scatola degli attreffi e una valigia. Sono due oggetti che solitamente porto insieme a me se magari mi sposto o vado a lavorare a domicilio e sono semplici oggetti che custodiscono dei materiali che mi possono essere utili per lavorare e soprattutto giocare insieme ai bambini che incontro. Nel futuro spero di essere ancora una terapista occupazionale e di poter lavorare insieme a un team di persone che accompagnano il bambino e la famiglia in questo processo di riabilitazione e anche di crescita spero di poterlo fare fisicamente proprio qui a San Vito e Tagliamento offrendo in base alla formazione che segue i miei interessi e le mie attirazioni nel modo più efficace possibile. Grazie per la visione!